però più curciate dai ma per anche se si vede un po' dai vai quindi hai capito tesoro quello che è più cresso dai ok facciamo il tesoro sul pasto e quindi hai capito tesoro quello che è successo cerca di ballare un po' più forte e quindi hai capito tesoro quello che è successo e quindi tesoro hai capito quello che è successo a capire no a capire no a che cosa stai pensando tesoro stai pensando ma ci pensi noi dopo qualche anno le tappo del tappo di immagini secondo me dobbiamo crederci sempre di più fare tanti video fai video per il volo che saranno i nostri grandi amori e vedrai che quelli di zelig colorato e tanti altri ci riemeranno oh no ma ce la faccio mi fai morire te lo giuro ma proviamo a farlo non ce la faccio devo staccare no stacca me la dobbiamo riparci non ce la faccio devi provare però te lo giuro tesoro veramente mi fai morire e Grazie.